Il Texas festeggia il cancelliere tedesco Adenauer, ospite del vicepresidente Johnson in uno dei più moderni ranch della regione. Un cappello da cowboy è proprio quello che ci vuole per solennizzare l'avvenimento. Adenauer è fiero del leggendario cappello. Se gli avessero appuntato sul petto anche la stella da sceriffo, l'avrebbe accettata con gioia.